ciao chi sei sono iuri della meridiana immobiliare iuri cosa hai fatto oggi ma abbiamo fatto un sacco di imprese assieme a paolo ea daniele mio socio è stata una giornata bella impegnativa io mi sono divertito e dimmi una cosa il video marketing immobiliare tu già lo fai da un paio anni praticamente da quando ci hanno reclusi ho detto bisogna inventarsi qualcosa di nuovo per caso ho visto un video di paolo ho detto beh questa fosse la cosa che fa per me ti ha dato risultati certamente sì ci ha dato risultati e soddisfazione tant'è che non riusciamo niente più a pubblicare i video che abbiamo già venduto tutto quello che acquisiamo complimenti grazie a te paolo grazie